Non accenna a diminuire l'ondata di maltempo che da ieri imperversa in particolare sulle regioni adriatiche centrali a causa del vortice di bassa pressione che molto lentamente si sposta dal basso tirreno verso il canale di Sicilia. Verso il suo centro converge una perturbazione sospinta e alimentata da forti correnti orientali. Ne sono conseguite condizioni di tempo molto perturbato soprattutto tra Marche ed Abruzzo nelle ultime ore con piogge in alcuni casi torrenziali. Nelle basse Marche nella zona del Piceno le piogge intense hanno causato allagamenti lungo la statale adriatica come nel caso di San Benedetto dove diversi sottopassi sono stati temporaneamente chiusi. Lungo la superstrada Ascoli Mare si è proceduto a velocità ridotta ciò nonostante un'automobile si è ribaltata a causa del fondo stradale allagato. Segnalati piccoli allagamenti modeste frane nelle zone collinari intorno ad Ascoli dove sono intervenuti i vigili del fuoco. A Fano le situazioni critiche che si sono verificate sono quelle che ormai da tempo affliggono la città. Il sottopasso del Lido, la zona trave è diventata un lago artificiale e via le ruggeri che rispetto al passato ora è solo invaso da ciotoli della spiaggia portate dalle onde più lunghe ma comunque percorribile. Ed alcune spiagge nella zona sud della città a cui il mare ha portato via qualche metro di sabbia ma senza danneggiare le strutture. Vigili del fuoco inoltre in azione per rami pericolanti e sulla careggiata un po' in tutta la regione e nella provincia. Quota neve in risalita sul nostro appennino dove sta nevicando oltre i 1400-1500 metri nel Pesarese e oltre i 1600 metri sui Sibillini con notevoli accumuli di neve fresca ma solo ad alta quota. Le condizioni di maltempo perdureranno fino al fine settimana.